Ben ritrovati in questo nuovo video dei viaggi sacri. Oggi siamo in Grecia, siamo su questa nave che ci sta portando dal porto di Atene, il Pireo, all'isola di Eghina, all'isola di San Nettario. Naturalmente le navi sono assolutamente indispensabili per la Grecia, per collegare il continente alle isole e le isole fra di loro. Attenzione però, non tutte le isole sono collegate con più frequenze giornaliere, ma solo con uno o due collegamenti al giorno, oppure tra isole stesse oppure isole minori al continente ci sono collegamenti settimanali. Quindi per sfruttare al meglio tutto il vostro tempo in Grecia e vedere tutto quello che desiderate, informatevi attentivamente su tutti gli orari delle navi.